La funzione Rewrite Senders Address di Exchange Rules Pro permette di cambiare il mittente delle mail di Exchange con estrema semplicità. Se utilizzi Microsoft Exchange e hai un gruppo di persone che lavorano per lo stesso reparto, per esempio le vendite o il supporto tecnico, questa funzione è molto utile. Consideriamo questa situazione. Abbiamo un gruppo di persone che lavora per lo stesso reparto. Ogni persona che appartiene a questo reparto scrive un'e-mail con l'indirizzo personale e questo ha due conseguenze. Ogni e-mail che viene mandato all'esterno esce non con l'indirizzo di reparto, per esempio supporto-azienda.it, ma esce con l'indirizzo personale di chi effettivamente ha scritto un'e-mail. In secondo luogo, se l'interlocutore risponde, questa eventuale risposta rimane intratturata nella mailbox del mittente originale e, se questi non può rispondere, i colleghi di reparto non sanno nulla di questa e-mail. La funzione Rewrite Senders Address di Exchange Rules Pro, cioè il cambio del mittente di un'e-mail, serve proprio a risolvere questo problema. E' sufficiente specificare quale deve essere l'indirizzo e-mail con cui si desiderano e escano le e-mail per tutti gli utenti appartenenti a un gruppo di lavoro e tutte le loro e-mail, pur continuando ognuno a inviare le e-mail con l'account personale, cioè senza cambiare il modo di lavorare, usciranno con l'unico indirizzo desiderato, quello appunto del gruppo di lavoro e non con quello personale. Il cambio del mittente è solo una delle funzioni di Exchange Rules Pro.